Ieri si è riunito il consiglio direttivo di Bavisela, penso per l'ultima volta nella storia, dove abbiamo deciso, considerata la situazione che ci è più avuta addosso, in maniera incolpevole per le male fatte che la passata gestione ha operato, a livello proprio di evasione, di mancato pagamento di tasse, di una gestione diciamo quantomeno molto allegra, di fronte all'impossibilità di garantire quindi la prosecuzione dell'attività, qualsiasi essa sia di Bavisela, ieri il consiglio direttivo si è riunito e ha deciso all'unanimità di procedere quindi con tutta quella che è la procedura di scioglimento dell'associazione e di messa in liquidazione. Quindi Bavisela chiude? Bavisela chiude per sempre. Chiaramente sarà l'assemblea dei soci a determinarlo, ma non vedo assolutamente altra soluzione, noi l'abbiamo convocata ieri sera subito al termine del consiglio direttivo, il 21 dicembre si riunirà alle ore 19 presso la sede attuale al centro commerciale Il Giulia per determinare l'inevitabile. E spero che questi signori veramente la paghino doverosamente, perché noi faremo di tutto per trovare delle soluzioni diverse, Bavisela è morta per sempre, questo marchio infangato, ma le persone alle quali tengo sono proprio quelle che vivono questa giornata, quella giornata lì, con il desiderio di farsi vedere, di farsi conoscere, di condividere i momenti importanti assieme. Per quelli, per quelli, lo dico e lo ridico, sono, siamo disposti a fare qualsiasi cosa.